Allora, mi chiamo Don Giazzepo Ucconi, ho già 19 anni, ho già compito la mia prima nata di scienza politica in Ecclì. La corsa che per me è il mio paese, ho già indesonato, ho già cresciuto, ho già campato, ho già conosciuto aianti, scontratto aianti, mi sono amusato, ho già studiato. Ho mai paesi, tra mare e montagne, mare e monti, piadze e montagne. La sua ricchezza penso prima che le azioni, le loro popolo, con la solidarietà che esiste tra i gorgi, con l'umanità che è lei, con di noi a volte i suoi guai, i suoi diventi, ma di più riguardo. La sua ricchezza è di noi, di sicuro, la sua terra, che di volte faccio di noi la sua pregola, con l'umanità che può mettere in pregola la vena di la nostra terra. E penso di noi i suoi peisaggi, i suoi bidet naturali, culturali, con la sua lingua, la sua cultura, il suo popolo, la sua terra. Mi sento bene, mi sento in demà, respiro la gioia, ogni volta che sogo qui sento che l'uomo respira bene, a pace. E ogni volta che entri qui, posto che ho avuto la mia prima nata di studi in Continent, a già riparte, ogni volta che ho avuto in vacanza, mi sento rinu, mi sento rinato, che ho avuto la mia vita a voi, ho voglio va qui, e mi sento veramente in demà qui mi. La strada è stata lunga, è stata difficili, ma ci siamo sbocati gontun, non è ancora compi, ma strada che è stata lunga, e ciò ha detto che difficoltà non c'è la nostra strada alla vena. Non c'è la nostra strada, perché penso che questa strada è stata difficili, è stata petrigosa, e adesso è stata difficili, ma ciò che davvero mia esperienza, esperienza c'è. Sì, stai qui, quando fai un altro luogo, stai qui, volevo rivedere qua in me studi, per lavorare qui, campare qui, e le trasmetto qui, lo messe a per a fare, amparare di noi dall'altro qui, dalla mia comunità, dalla mia popolo. Stai qui di noi per contribuire a un milione militante professionale, a sviluppo di un paese, all'idea economico, sociale, culturale e politico, a preservazione di una nostra identità, di una nostra cultura, di una nostra lingua, a trasmissione di una nostra storia, di una nostra tradizione, di sapere fa, e di noi sta qui perché mi sento bene e vogliamo aiutare qui. La Vena per me non ha già entusi di sicure, di noi non ha alcune chance di noi ricchezza, di noi divetti, di noi, di noi gai, ma, di noi e soprattutto di noi ricchezza, di noi ciò che ci ha diventato un altro per metà l'occhio, di noi ciò che succede solo in Anta Gorsiga. Si può essere parte al mondo senza stupare in Anta Gorsiga, e penso di noi la Vena da passare per la misa in comune, di noi energetica collettiva, di una energetica per migliorare la situazione dell'Ingorso, di si isola, di usare il popolo, di azotea. A Gorsiga hanno la parola della nazione. Foe! A Gorsiga Grazie a tutti.